Mi sentite? Mi ricevete? Pronto? Ma qualcuno può accendere la luce? Dai, non si vede nulla, devo parlare dell'arte del sorpasso, vi prego, accendete la luce. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo video al quale ci tengo particolarmente. L'arte del sorpasso 2.0. Sì, perché avevo parlato circa 5 anni fa. Quanto è bello un sorpasso con un bellissimo incrocio di tradittori in cui le auto non si toccano. Bellissimo. Allora ragazzi, come al solito questo video è rivolto alle persone che iniziano con il sim racing, che si approcciano per la prima volta alla simulazione di guida. Quindi se tu sei un esperto io ti consiglio di guardarlo comunque questo video e di darmi dei suggerimenti qui sotto nel video per migliorare o aggiungere altri contenuti a questo video. E perché no, correggermi se dico qualcosa che è sbagliato. La prima cosa che bisogna fare è avere coscienza che in pista non siamo soli. Non possiamo fare come se fossimo da soli con l'intelligenza artificiale e quindi se urtiamo qualcuno non importa, è il computer. Non funziona così. Bisogna avere la coscienza che in pista si sta insieme a delle persone che sono dall'altra parte di un computer e che stanno guidando. E che magari per quella gara si sono preparati per due settimane e che se magari li sfondate, perché non fate attenzione, gli si possono girare i c***i ed è normale. Quindi la prima cosa, prima del sorpasso, è sapere che si è in pista con altre persone. Voi mi direte, vabbè Fabri è scontato. No, non è scontato ragazzi, non date per scontato perché molte volte si vedono persone che non sanno neanche dove sono. Ci sono persone che scendono in pista e non conoscono neanche il circuito, che non conoscono le traiettorie. Le gare vanno preparate prima di arrivare al sorpasso, che è una delle manovre secondo me più difficili e complicate da eseguire. Ovviamente non si sfonda, non si fa da sponda, non si gioca a biliardo. Ecco perché vi dico che è difficile. Lasciate stare tutte quelle situazioni facili in cui io vado 500 km all'ora è più veloce di uno, oppure ho 4 secondi di ritmo gara più veloce di quella. Quello è facile, ovviamente, tutti lo sanno fare. Stiamo parlando in condizioni in cui, ok, vi confrontate con dei piloti che più o meno sono sul vostro stesso livello. Bisogna vedere anche le condizioni in cui siamo e che tipo di circuito, se siamo in un circuito cittadino, dove cavolo andate a superare. Come fate? Oppure se gira allo stesso ritmo vostro, come faccio? Devo andare a speronarlo? Mi devo appoggiare a lui? Gli faccio un dive bomb? La domanda è questa. No! Quindi ecco perché si dice arte del sorpasso. L'arte del sorpasso è come un esame universitario. Dovete prepararlo. Non potete andare a scendere la prima curva e... Dovete prepararlo. Io ho visto dei sorpassi, anche ultimamente, di gente che va forte oltretutto. Sono rimasto impressionato. 12 giri dietro, uno dietro l'altro, a Brandach. Il pilota dietro è passato in un punto impossibile, impensabile, perché aveva studiato che in quel posto lì il suo avversario lasciava quel mezzo metro, quindi che apriva la porta, e gli lasciava la possibilità di entrare in sicurezza. E i giri precedenti, in cui si era accorto di questa cosa qua, ha provato quella traiettoria diversa per vedere se era possibile avere la giusta trazione, se non perdeva troppo tempo. Intelligenza, studio. Lui va a largo, mi apre la porta. Non è mai entrato per non dare sospetto, in modo tale che il suo avversario lasciasse sempre la porta aperta. Ha tentato quella traiettoria, in modo da capire la trazione, come poteva uscire. Quando ha capito che era possibile e che il rischio e beneficio era più a favore del beneficio che del rischio, ha provato e ha fatto una manovra incredibile. Ci ha messo 10 giri per fare quello studio. E alla fine chiude, primo, con gli applausi di tutti, perché è stata una manovra bellissima. Questo è l'arte del sorpasso. Volete sapere cos'è? Volete sapere che cosa rappresenta questo? Rappresenta il rispetto in pista. Questo pilota supera un altro, lo studia e lo rispetta, perché non lo tocca. Volete un altro esempio? Andate a guardare la seconda gara del nostro campionato iRacing Adrenaline Rush 2024. Non si passa, sono attaccati. È un treno, ragazzi. Che cazzo è il Frecce Rossa che sono attaccati così? Cesana, prova l'attacco all'interno. Zegretti deve lasciare lo spazio. Mamma mia, che ha fatto? Mamma mia all'interno. La seconda gara, ragazzi. Andate a vedere. Mezz'ora in tre a Laguna Seca con le MX-5. Non si toccano mai. Solo l'ultimo giro, perché sulla foga c'è stato un errore di calcolo. E quello è l'eccezione che conferma le regole, in realtà. Ma mezz'ora, ragazzi, hanno fatto dei sorpassi tra di loro senza toccarsi. È stato qualcosa di bellissimo. Perché? Perché hanno coscienza, prima di tutto, di dove è l'avversario. Quindi dovete avere la coscienza, dovete sapere dove è il vostro avversario. Perché se sapete dov'è, lasciate lo spazio o andate a chiudere nel modo giusto. Studiate il vostro avversario. Studiate le condizioni della pista. Studiate le condizioni della vostra auto. Cercate di anticiparvi anche mentalmente di quello che potrebbe succedere. Quindi mi preparo, conosco la pista perfettamente, il mio mezzo perfettamente. Sono dietro a uno. Questo gira come me. Dov'è che sbaglia? Cosa posso fare per indurlo all'errore? Come gli posso mettere pressione? Mi faccio vedere agli specchietti? Cerco di vedere dov'è che mi lascia spazio? Sacrifico l'entrata di una curva per uscire più rapidamente? Come me la preparo? Come me la studio? E questa è la bellezza. L'esecuzione corretta di un sorpasso è definita tale quando avete superato il vostro avversario senza regare danni né a lui e né a voi. E una cosa super importante anche, ragazzi, è che dovete considerare. E per questo io ringrazio Alessandro Mantini perché mi dà spunto per dare argomenti in più sul quale discutere. Perché mi ha dato l'indirizzo di un blog di Jan Korf, che è un simraiser. Il suo titolo tradotto del blog è Fai schifo nelle corse, fai schifo nel simraising. Giusto per farvi capire. E in modo sarcastico ma anche realista spiega che se succedono certi casini considera che è sempre colpa tua, in particolare se sei dietro. Sono d'accordo con lui, diciamo l'80%, perché è anche vero che chi sta davanti, e ne parleremo, ha anche delle responsabilità. Però per tornare a quello che dice lui, lui parla con Randy Popst, che non conosco, che è un pilota professionista, un ragazzo che fa anche simraiser, che parla del vortice del pericolo. E che se entri lì dentro e succede un casino è colpa tua. E lì sono d'accordo. E il vortice del pericolo, adesso ve lo faccio vedere, è quella parte di Danger Zone in cui c'è il collubio di tutta una serie di cose. Prima di tutto il campo visivo del pilota che sta davanti è ridotto. Anche se ho detto che uno deve sapere esattamente dov'è. Ma c'è un punto cieco comunque dove non si vede. E che se tu entri lì è che già sei in ritardo nella staccata. Perché il pilota che sta davanti sta iniziando a girare e quindi di conseguenza andrete in collisione. E lì è colpa tua. Quindi parla di questo. Anche all'esterno parla di questa uscita del vortice del pericolo in cui ovviamente il tuo avversario si allargerà. E' molto interessante quest'articolo di come ne parla e di come si lega comunque a quello che vi sto dicendo. Che i sorpassi vanno studiati e preparati. E per tornare al discorso di chi sta davanti non è perché io sono davanti che ho tutti i diritti eh ragazzi. Perché esiste una funzionalità che si chiama radar oppure uno strumento che si chiama specchietto. Non è perché sono davanti che posso chiudere tutto a come se non ci fossero domani a stare a Ginesca. Non esiste perché se il mio avversario riesce ad affiancarsi normalmente di norma si lascia lo spazio. Si lascia lo spazio per una macchina. E se io che sono affiancato mi rendo conto che non possiamo fare la curva in due. Alzare il piedino non costa nulla. Perché evitare un incidente evita un sacco di cose. Volete che ve le elenco? La scocciatura perché ho rovinato una gara. La mia è quella dell'altro. Magari mi incazzo con lui oppure mi prendo delle bestemmie addosso. Magari la commissione di gara. Vogliamo parlare dei punti campionato? E ancora ne potrei mettere tanti altri. Nervosismo per niente. Quindi alzo il piede, lascio passare. So che se non è questa curva sarà la prossima o il giro dopo. Bisogna giocare di intelligenza. L'arte del sorpasso è anche questo. Giocare di intelligenza. Rischio beneficio. In ogni caso ragazzi, tecnica, non tecnica, saper fare o non saper fare. Secondo me dovremmo essere tutti regolamentati da una sola parola. Se tutti ci basiamo su questa parola, secondo me 9 su 10 incidenti sparirebbero. Su questo ragazzi il video finisce qui, nella speranza che vi sia piaciuto. Non esitate a lasciare un commento se avete bisogno di ulteriori dettagli o altri argomenti che volete che tratti per quanto riguarda i principianti. Non esitate a lasciare un pollice in su. Iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. E noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto. Un abbraccio. Ciao.